Amici buongiorno, buon giovedì, giovedì 19 di maggio e cominciamo l'avvicinamento alla bella serata che ci aspetta sabato, tra due giorni, dedicata a Vittorio Borghesi. Mi raccomando, seguiteci sempre con il gran effetto, mi raccomando votate perché questo è il numero WhatsApp per votare il vostro brano preferito. Sabato torneranno sul palco Luca Calbucci, Claudio Zanardo e Stefania e Fabio Stefanelli, la grande scuola di ballo che sarà con noi per omaggiare la grande tradizione borghesi. Allora, come sempre in questi due giorni, oggi e domani, andremo a rivedere i filmati storici d'epoca della grande orchestra attrazione Vittorio Borghesi. Allora, prima naturalmente un ringraziamento all'edizione Novalis, visto che ha acquisito questo grande patrimonio dell'orchestra borghesi, l'editoria dell'orchestra borghesi, grazie all'editore Novalis, Roberto e Cristina, mi stavano impapinando ragazzi, lo so, però vado avanti, dovete prendermi così, sono i capelli, ho perso come Sansone il potere, ho perso, ho perso la forza, mi devo vendicare di Renato perché lui l'ha fatto apposta, a parte gli scherzi, guardate che bello, questi sono i filmati storici dell'orchestra Vittorio Borghesi. A tra poco. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. A dico, era in televisione, era in televisione italiana. Il carnevale di Venezia, dalla tesamonica del maestro Vittorio Borghesi. Carbono sugiode di Veneno della Bene, 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 app KNOW, presto, l'inizio, diffyearsi, metto su sommazione, è un mondo Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.